Io ho chiuso tre matrimoni, tre matrimoni in 20 giorni. L'investimento che ho fatto si è praticamente già ripagato. Sono Riana Fanara, nasco come fotografa di famiglia, lo faccio da qualche anno, ma qualche mese fa, dopo aver fotografato un matrimonio, ho deciso di cambiare e di diventare una fotografa di matrimoni. Quindi su YouTube ho visto Stefano, ho iniziato a seguirlo e dopo qualche mese ho iniziato a vedere che offriva dei corsi di consulenza. E quindi ero molto incuriosita perché sicuramente la parte marketing era molto carente nel mio caso. L'ho contattato e sono felice, anzi sono felicissima di aver accettato questo percorso di consulenza con Stefano, anche se inizialmente ho avuto molti dubbi perché ti devi fidare comunque di qualcuno, sì che ispira fiducia perché Stefano ispira fiducia, però comunque l'investimento devi farlo e devi spendere dei soldi. Io sinceramente non avevo a disposizione una grossa cifra. Di conseguenza anche nella difficoltà economica ho deciso di fare questo percorso con Stefano e oggi, questo avviene un mese fa, oggi posso dire che sono felicissima di aver accettato di fare questo percorso di consulenza con Stefano perché dopo 20 giorni che avevamo appunto impostato una campagna pubblicitaria, io ho chiuso tre matrimoni, tre matrimoni in 20 giorni. Lo sottolineo perché sono molto felice di questo. Stefano è molto disponibile, io scrivo praticamente a qualsiasi ora lui mi risponde senza nessun problema, ma soprattutto oltre alla disponibilità ci sono risultati nella gestione dei clienti, nella gestione dei contatti, mi aiuta, io scrivo, lui mi risponde, mi dà una mano perché comunque è lui l'esperto di marketing. Io lo consiglio veramente a tutti quei fotografi che vogliono fare quel passo in più, quei fotografi che vogliono emergere, che vogliono realizzare il loro sogno di vivere di fotografia perché io sto vedendo che effettivamente l'investimento che ho fatto si è praticamente già ripagato perché tre matrimoni in soli 20 giorni e non abbiamo finito qui e quindi sono molto felice e lo consiglio a tutti.